Buonasera a tutti, benvenuti, vi ringrazio e ringrazio l'organizzazione per l'invito, vengo sempre molto volentieri. Comincerei subito con una considerazione. Pochi giorni fa su questo stesso palco è intervenuto l'ex ministro Roberto Calderoli che ancora oggi ha un ruolo ovviamente importante all'interno della Lega e ha invitato il qui presente Flavio Tosi a occuparsi più del Veneto e di Verona piuttosto che a Roma. Chiedo subito insomma come si risponde a questa considerazione. Allora intanto buonasera a tutti, ringrazio per l'accoglienza, ringrazio Nunzio per questo invito, ringrazio il vostro segretario provinciale, ringrazio anch'io e mi associo a ringraziamento per quegli splendidi 80 volontari che stanno ancora adesso lavorando a questa festa perché poi... allora io vengo qua e parlo però ci sono quelli che lavorano e quindi vanno ringraziati loro. Allora Roberto Calderoli, lui è una persona che è a Roma da 20 anni e quindi sa come funzionano i meccanismi romani e quindi quando dice che a Roma si ottiene poco dice una verità, non è che dica una cosa sbagliata. Noi siamo stati al governo per parecchi anni, diciamo nella cosiddetta seconda repubblica, il centro-destra e il centro-sinistra si sono spartiti più o meno quasi dieci anni a testa di governo e come Lega sicuramente speravamo di poter portare a casa qualcosa di più e non ci siamo riusciti. E quindi la risposta qual è? Alle prossime elezioni politiche perché comunque fra sei mesi, un anno, un anno e mezzo si tornerà a votare alle elezioni politiche. Quello che io ho notato forse anche immagino molti di voi a queste ultime elezioni, questa ultima elezione è stata fatta una scelta io lo dico da segretario della Liga Veneta, una scelta giusta perché alla fine il movimento si discusse molto in Diabellerio di qual'era la scelta corretta da fare perché si votava in Lombardia, si votava per il Parlamento e quindi c'era il problema dell'alleanza o di non fare l'alleanza. Dopo più di un anno di divisione profonda con Silvio Berlusconi e con il PDL, con Berlusconi che come sappiamo tutti prima con noi aveva fatto una serie di azioni fra l'altro giuste come quella di togliere Lici perché allora era Lici sulla prima casa, salvo poi con Mario Monti, Berlusconi e i suoi votare la reintroduzione dell'Imu sulla prima casa per poi promettere in campagna elettorale che non solo l'avrebbe tolta ma avrebbe restituito quella pagata l'anno prima, però la gente ci ha creduto quindi vuol dire che l'ha raccontata bene, questo per un fatto di coerenza, di linearità di percorso e quindi quando ci troviamo a discutere su questo si ragionò anche sull'ipotesi in Consiglio federale di non presentarsi per elezioni politiche a Roma, cioè dicendo a Roma siamo stati là, non siamo riusciti a portare a casa niente, ci concentriamo sul nord e sulle regioni, in particolare evidentemente sulla Lombardia e da Roma ce ne chiamiamo fuori. Poi alla fine è stata invece fatta la scelta di dire ci si presenta comunque il candidato premier, cioè no non il candidato premier, il premier non sarà Silvio Berlusconi perché questo era stato chiarito nel caso vincessimo ed è stata data la priorità, come ripeto è stata la scelta più giusta, Roberto Maroni ha avuto un grandissimo coraggio e una grande determinazione lo dico perché sono un profondissimo estimatore di Bobo Maroni perché si è messo lui in prima persona, giocando se stesso e la Lega su una scommessa difficilissima e rispiosissima come tutti sappiamo e l'ha vinta e quando uno scommette e vince una partita così difficile ha un merito enorme. È chiaro però che in quelle elezioni al di là della Lombardia dove si votava per le regionali, a livello di campagna elettorale nazionale siamo un po' scomparsi, cioè alla fine ci andava solo Berlusconi e noi eravamo spariti perché Berlusconi formalmente era il candidato premier sulle schede. E allora siccome appunto si tornerà a votare, se si torna a votare ci saranno tre possibilità detta proprio banalmente mettendo in fila gli scenari, o non ci si presenta, cioè come Lega diciamo non ci presentiamo per Roma perché tanto a Roma non si cambia niente, è una scelta che possiamo fare e a quel punto non è un problema del candidato premier perché tanto non ti presenti. Oppure ci presentiamo per le elezioni politiche. Se ti presenti per le elezioni politiche hai due possibilità, o corri da solo, sicuramente quella, io sono uno a Verona che ha il PDL minoranza, il PDL a Verona alle elezioni comunali dell'anno scorso ha preso il 5% ed è minoranza, ha perso. E quindi per questo non ho problemi a parlare con molta tranquillità. Dicevo o ti presenti da solo, corri da solo, se corri da solo devi comunque indicare un candidato premier, anche come Lega. E quindi qual è il modo per indicare il candidato premier? Secondo me anche all'interno della Lega se si dovesse fare quella scelta le primarie. Chiedere ai militanti che scelgano loro il candidato premier. Ne parlavo prima con Bellotti, con il vostro segretario provinciale che si ricordava insieme perché insomma anch'io sono in Lega come lui, come tanti di voi da qualche anno perché sono 23 anni che sono in Lega, quindi qualche annetto. E quando facemmo le primarie per le elezioni del 96, le primarie nel senso che votiamo fra i militanti chi candidare in Parlamento, alla fine quello fu un bel momento di democrazia interna dove i militanti decisero chi candidare e a maggior ragione oggi con questa brutta legge elettorale che l'abbiamo fatta anche noi con dei motivi precisi. In quel momento andava fatta questa legge elettorale perché c'era un interesse del centrodestra a non far vincere il centrosinistra, il motivo era semplicemente quello perché parliamo del 2006, il centrosinistra era avanti nei sondaggi e quindi si fece questa strana legge elettorale che prevede che alla Camera uno vince perché alla Camera uno vince e al Senato c'è il primo di maggioranza suddiviso fra le varie regioni con il risultato che o uno ha la maggioranza bulgara e quindi riesce a vincere anche al Senato oppure al Senato si pareggia nel senso che non vince nessuno. Venne fatta con quello scopo, si ottenne quello scopo perché il centrosinistra al Senato aveva credo un senatore di maggioranza e quindi durarono due anni e poi andarono a casa e quella legge oggi ha dato lo stesso risultato nel senso che si sono pareggiate le elezioni al Senato e è venuto fuori sto governo che ci ritroviamo. Dicevo a maggior ragione con una legge elettorale così dove voi, noi non si può scegliere chi viene eletto perché la legge non lo consente, le primarie danno la possibilità di scegliere prima chi candidare perché venga eletto. E torno a quello che dicevo prima, quindi se si va da soli comunque serve individuare un candidato Premier come lo individui o lo sceglie il partito dall'alto oppure, e secondo me è meglio, chiedi ai militanti di individuarlo con le primarie. L'altra possibilità, ed è la terza possibilità, è quella di allearsi, cioè ti alleia ancora col centrodestra, non lo so perché dopo bisognerà vedere il PDL quale saranno le trasformazioni, diventerà di nuovo Forza Italia, ci sarà il cambiamento davvero, non si sa. Però metti che vai in coalizione con il centrodestra. In quel caso come scegli il candidato Premier? O si fa la scelta che talvolta abbiamo fatto per necessità di dire si va al traino, il candidato Premier è quello del PDL per dire, col risultato che in campagna elettorale scompari, perché comunque in campagna elettorale alla fine vedi solo il loro. Oppure lasci che lo scelga la gente e per farlo scegliere la gente cosa fai? Le primarie, quindi fai le primarie all'interno del centrodestra per vedere chi vuole la gente come candidato Premier. Per questo questa è l'idea che abbiamo lanciato nelle scorse settimane, cioè fare in modo che comunque il centrosinistra, se vi ricordate, quando ha lanciato le primarie per individuare il candidato Premier che malauguratamente per loro e dire malauguratamente anche per il Paese francamente, hanno fatto vincere a Bersani perché hanno truccato le regole, hanno fatto in modo di fare delle primarie che sembravano democratiche ma c'era già scritto che li vinceva, dicevo peggio per loro e peggio per il Paese perché forse se sarebbe cambiato qualcosa. Lo so io e lo sapete anche voi che c'erano elettori di centrodestra che ti dicevano e ti dicono che se c'era Bersani probabilmente votavano, che se c'era Renzi probabilmente votavano di là. Perché? Perché alla fine poi uno sceglie le persone. E allora siccome è una questione di scegliere le persone, se tu fai le primarie la gente sceglie le persone. E quindi nella Lega si possono candidare Tosi, Maroni, Zaia, Calderoli, 10, se ne candidano 20 di Forza Italia, gente che non fa parte dei partiti si può candidare primarie. Le primarie vere sono primarie aperte a chi ritiene di candidarsi e di mettersi davanti al giudizio della gente. E non è detto che uno deve essere per forza un politico, è una persona che si misura con gli altri. In questo modo la gente può scegliere perché uno dei motivi per i quali la gente non va a votare, tanta gente, anche dei nostri elettori, anche dell'elettorato leghista non è andata a votare, perché siccome non hai la possibilità di scegliere, uno dice non voto perché non scelgo. Se tu invece fai le primarie e dà le possibilità alla gente di scegliere prima, allora la gente viene coinvolta e la gente va a votare. Questo è un fatto innegabile. Mi ricollego a questo ragionamento per fare una domanda più squisitamente veneta e poi di riallacciarci alla politica nazionale. Perché è vero che la Lega, prima delle ultime politiche, è scomparsa dai giornali in campagna elettorale perché erano tutti concentrati soprattutto sulle iniziative di Berlusconi che era riuscito ad essere protagonista. Però c'è anche da dire che ci sono state molte critiche sulla gestione del partito in Veneto, sia a livello di candidature per le politiche, sia a livello di rapporti interni con numerose espulsioni, che alcuni hanno contestato. E poi ci sono state anche le amministrative che potevano segnare una svolta in positiva e in ripresa per la Lega dopo il cattivo risultato delle politiche e anche lì ci sono stati dei risultati oggettivamente deludenti, per esempio a Treviso. L'ultima osservazione un po' preoccupante è che le geni giornali in questi giorni, alcuni quotidiani locali hanno scritto che in Veneto c'è un po' di malumore anche all'interno della base, tanto che ci sarebbero molte sezioni commissariate, addirittura pochissime feste sul territorio. Chiedo, è vero, non è vero? E se magari anche lei ha fatto qualcosa su cui forse tornare indietro farebbe delle scelte diverse? Allora, due minuti su queste questioni perché credo che interessino poco, nel senso che non sono di interesse ampio ma riguardano questioni interne, mentre invece penso che si deve parlare dei problemi del nostro territorio, del paese e non appunto di Beghe. Ma comunque due minuti su queste cose. Per quanto riguarda le feste in Veneto, io l'ho letto sul Corriere, da segretario della Liga Veneta è stato interessante leggerlo, io ho letto che noi in Veneto quest'estate facciamo solo due feste. Io ho l'elenco delle feste in Veneto, che sono 12, con le date e i posti, le sto pure girando e non ho capito bene il Corriere da dove abbia ricavato il suo dato. Ne ha scritto due ma me l'avessero chiesto, me l'avessero chiesto quante feste fa la Lega in Veneto, gli dicevo 12, gli mandavo il file con l'elenco, le date e i posti. Quindi io non so se ci sia qualcuno, forse c'è qualcuno che in buona fede, in mala fede, gioca a far casino all'interno della Lega dicendo anche delle cazzate sui giornali, perché quella di scrivere il falso è fastidiosa, se tu mi critichi Flavio Tosi, e io ci sto perché la critica in politica ci sta e mancherebbe altro, uno deve sempre parlare bene, però se tu scrivi il falso, scrivendo che ci sono due feste e quando ce ne sono 12, dimostratamente 12, ecco questo dà leggermente fastidio. Ovviamente difendo la buona fede dei colleghi, più che altro ho fatto questa domanda anche perché uno dei motivi di malumore o di smarrimento forse dell'elettore leghista, non solo in Veneto ma in generale, è perché non riesce a capire, e arrivo al succo della politica nazionale, come si possa conciliare la linea della Lega, insomma anche l'idea della macro regione e il continuo evidenziare della oggettiva questione settentrionale con un progetto di tipo nazionale. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi si è parlato in particolar modo appunto di lei Flavio Tosi come pronto per essere leader nazionale e si è molto parlato anche della sua fondazione, di cui si è scritto avere un nome del tipo Tosi per fondazione per ritaglia intera, piuttosto che nome di questo tipo, che ha molti elettori della Lega che quindi apprezzano un partito che al primo punto dello statuto ricorda e rivendica l'indipendenza della Padania, ha creato un po' di smarrimento. Si riesce a far chiarezza anche su questo punto perché è un altro elemento su cui si discute anche nelle feste. Mi piace appunto che vengano fatte le domande che hanno anche un po' di vivacità così il dibattito è più interessante. Allora, verissimo quello che prevede il nostro statuto perché appunto essendo in Lega da molti anni lo conosco piuttosto bene. Verò anche che all'elettore e al cittadino devi disegnare un percorso praticabile, cioè gli dici quello che concretamente si può fare. Per dirti il mio consiglio comunale a Verona, sapete che in Veneto come in Lombardia si sta discutendo di una proposta per l'autodeterminazione del Veneto per poter scegliere o meno per la propria indipendenza. Il comune di Verona è l'unico comune dopo luogo dove la maggioranza del consiglio comunale, con il voto contrario del centro-sinistra ovviamente, dove la maggioranza del consiglio comunale ha votato per sostenere il referendum per l'autodeterminazione del Veneto nel mio consiglio comunale, la mia maggioranza. Ed è stato votato perché? Perché io ritengo giusto che la gente si possa esprimere. Dopodiché io credo che lo Stato, questo Stato, darà la possibilità al Veneto di essere indipendente. Credo che questo Stato concederà qualcosa al Veneto perché lo va a votare. No, non ci credo perché guardate, considerando l'atteggiamento di Roma nei nostri confronti ci sono una fila di esempi interminabili che questo Stato, questo tipo di impostazione il cambiamento non lo vuole. Faccio un esempio banale piccolino che è il comune di Lamont. Il comune di Lamont è un piccolo comune della provincia di Belluno, molto piccolo anche in termini di abitanti. Voi sapete che la Costituzione quindi non è neanche in violazione della Costituzione, la Costituzione italiana prevede che un comune possa chiedere di passare alla regione confinante. Allora il comune di Lamont che confina col Trentino sta in montagna quindi con tutte le difficoltà, insomma la provincia di Bergamo fra l'altro la conosce la montagna, tutte le difficoltà di stare in montagna, dall'altra parte c'è Trento che ha una situazione economica ben diversa perché si tiene il 90% delle tasse, fanno il referendum previsto dalla Costituzione dove chiedono ai cittadini di Lamont se vogliono passare con Trentino Alto Adige e giustamente i cittadini di Lamont dicono certo vogliamo passare con Trentino Alto Adige e ci mancherebbe altro. Anch'io se confinassi col Trentino chiederei che Verona possa passare con Trentino Alto Adige. Passa il referendum, vengono fatti tutti i sacrosanti passaggi parere favorevole della regione Veneto perché con il nostro governatore Zaia si dice hanno ragione i cittadini di Lamont a chiedere di poter essere trattati come cittadini della provincia di Trento, non si capisce perché devono essere trattati come cittadini come noi tutti di serie B. Parere favorevole quindi anche della regione, si va in Parlamento e poi la cosa su richiesta della Lega perché il PD e il PDL non la tiravano fuori, su richiesta della Lega dopo mesi e mesi e mesi va in aula e quando va in aula a quel punto l'aula gli dovrebbe dire o sì o no. E voi capite cosa avrebbe voluto dire se anche se un piccolissimo comune se gli dicevano sì quel comune passa in Trentino Alto Adige. Tra Verona e il Trentino ci sono tre comuni, fate pensare che Valanga si creava in tutto il Veneto e chissà dove nel momento in cui si innescava un fenomeno di questo tipo. E siccome a Roma lo sanno, perché a Roma questo lo sanno, e allora potevano dire di sì o di no, dir di sì, per carità di Dio è impossibile, dir di no, no, perché dir di no voleva dire uno schiaffo alla democrazia, cioè tu prevedi che in Costituzione ci sia un percorso che quindi non è una violazione della Costituzione, è una cosa prevista che tu puoi chiedere, c'è la larga maggioranza, tutti dicono di sì, gli dice di sì. Allora alla fine cosa hanno fatto? Hanno fatto la scelta romanamente più ipocrita che è quella di dire forse non c'è la copertura di bilancio, lo rimandiamo in commissione, l'hanno rimandato in commissione e ti saluto e è finita la legislatura. Allora per questo dico non mi aspetto che da Roma ti lasciano cambiare le cose, tant'è che è stata fatta la scelta di puntare sulle regioni e cercare di fare la lotta da qua, perché se la facciamo da qua con i comuni e con i governatori forse riusciamo a portare a cosa qualcosa, perché da là cambiare è difficile, questo è oggettivamente. Ma il punto che ti dicevo prima è quello che se comunque ci sono le elezioni politiche o non ti presenti, se ti presenti io non ho capito perché tutte le volte dobbiamo votare un candidato premier di quegli altri e votiamoci un candidato premier nostro, questo è il punto. Immagino che la risposta dalla controparte sia la Lega ha tre governatori in Piemonte, Lombardia e Veneto, la maggioranza è formata dalla Lega e dal centrodestra berlusconiano, così accade in una moltitudine di comuni e di province, provo a mettermi nei panni degli esponenti del PDL, potrebbero dire è troppo facile, quando governate voi non vi portiamo acqua e voti, nel momento in cui a Roma vogliamo correre insieme è giusto che loro si aspettino dal loro punto di vista un appoggio alla parte della Lega, perché altrimenti farebbero esclusivamente il gioco, il vostro gioco. Infatti, la proposta, la richiesta, l'idea di Flavio Tosi, poi ripeto, ognuno giustamente in democrazia è libero di pensarla come vuole, non è quella di dire andiamo dagli altri a dire il candidato premier è quello della Lega, la mia idea è se ci si allea, se non ci si allea ci facciamo le primarie noi, punto, se ci si allea si fa le primarie, dopodiché loro hanno il candidato più bravo e lei vince il candidato loro, le primarie il candidato è loro, ce l'ha la Lega il candidato più bravo, lo fa la Lega, non è una imposizione, è una scelta democratica, se loro rispondono quello che dici te, vuol dire che hanno paura che ci sia un candidato della Lega che prende i voti loro. Quello può darsi, fatto sta che anche per la regione Lombardia uno degli argomenti forti che Formigoni quando sperava di avere una candidatura più amichevole dal suo punto di vista rispetto a quella di Maroni diceva se la Lega osa tirare troppo la corda in Lombardia noi facciamo cadere le giunte in Piemonte e in Veneto, per cui poi al di là del fatto che loro possono avere paura o meno è comunque insomma un ricatto, però insomma una reazione abbastanza comprensibile. Più che altro anche ammettendo che poi un candidato, un aspirante premier della coalizione sia un uomo della Lega, davvero un aspirante premier della Lega potrebbe incidere cambiando le cose da Roma dopo che la Lega come lei ha detto proprio all'inizio non è comunque riuscita a dare una svolta pur essendo al governo con anche ruoli importanti, numerosi ministeri, numerosi parlamentari eccetera eccetera, cioè cosa cambierebbe al di là poi dei rapporti all'interno della coalizione? Allora, torniamo al discorso di prima, scusate ma si rischia di essere ripetitivi, il punto è che se tu ti alledi, cioè se tu ti candidi per il Parlamento alleato con qualcuno, comunque ti candidi per andare a governare il paese, altrimenti vai da solo o non ti presenti, se tu fai la scelta di allearti o accetti supinamente il candidato premier di quegli altri oppure dici ce la giochiamo attraverso le primarie e chi ha il candidato più bravo si va a prendere i voti dei cittadini e diventa candidato premier, quindi non è una questione di che risultato porti a casa, io ti dico come la penso io sul risultato che porti a casa, io faccio il sindaco da sei anni e mezzo quasi e durante la passata legislatura c'è stato un momento di grande tensione nella maggioranza, adesso una maggioranza diversa, adesso una maggioranza che è come in Lombardia, io ho la mia civica, la lega e basta, quindi diciamo sono una maggioranza abbastanza serena, nella passata legislatura insomma c'erano altri partiti quindi il dialogo era talvolta diverso e su un punto fondamentale del programma c'è stato un momento in cui una parte della maggioranza, evidentemente non era né la lega né la mia civica, una parte della maggioranza ha sostanzialmente cercato di boicottare uno dei punti fondamentali del programma, io a quel punto gli ho detto in giunta, siccome gli ho detto questo è scritto nel programma, è un'opera, è la metà della circonvallazione di Verona, quindi è un'opera importante per la nostra città, però gli ho detto siccome è scritto nel programma, fra l'altro è stato uno, voi non siete veronesi quindi capisco che potete non conoscerla, è stato uno dei punti di grande divisione fra il sottoscritto e il candidato del centro-sinistra alle elezioni comunali, cioè uno dei punti cardine sui quali c'era una grande differenza, io, la nostra coalizione voleva quell'opera, gli altri no e ci siamo scontrati su questo. E allora io alla maggioranza in giunta gli ho detto e quindi in particolare a chi tentava di far saltare quell'opera pubblica, gli ho detto è scritta nel programma, ai cittadini gliel'abbiamo promessa, per me quest'opera pubblica come il resto del programma, io su quello metto la fiducia, quindi o passa o si va a casa. E allora questo per dire che secondo me quello che si deve fare quando si va al governo, se mai ci si tornerà, chi lo sa chi se ne frega, ma se mai ci si tornerà l'atteggiamento deve essere questo, si pongono dei paletti che interessano ai nostri territori perché dobbiamo difendere i nostri territori o ce li danno o si va a casa. Questo è l'unico modo per difendere. Noi purtroppo abbiamo perso una parte del consenso anche perché nell'ultima fase, lunga ultima fase del governo Berlusconi con il quale eravamo assieme, forse, lo dico come impressione personale guardandola dal territorio, forse a un certo punto quando si è visto che non si riusciva come lega quindi a portare a casa il federalismo, a portare a casa quello che era giusto e sacrosanto portare a casa perché l'avevamo pattuito con gli alleati, a un certo punto quando vedi che non porti a casa e dici ti saluto, staci te in maggioranza e vado fuori. E allora per questo dico cosa vai a fare là per come sono fatto io, per come sono fatto io, io vado là o chiunque come penso ragiona la gente concreta che sta qua, tu vai là, se vedi che porti a casa il risultato bene altrimenti ti saluto e ti ritiro, l'unica cosa è non andare là a vivacchiare, la cosa di che non possiamo permetterci è andare là a vivacchiare. Sempre a proposito invece del centro-destra, lei è stato sempre uno dei più critici, anche feroci di Silvio Berlusconi, adesso c'è questo centro-destra, questo PDL che adesso si sta trasformando e sta forse tornando un po' alle origini di Forza Italia, che al di là delle vicissitudini giudiziarie di Berlusconi, che forse non si candiderà, insomma adesso bisognerà capire anche come andranno a finire le sue vicissitudini giudiziarie, intende impostarsi ancora in modo molto forte sulla figura di Berlusconi, che immagino, ma magari mi sbaglio, è anche un ulteriore motivo forse di imbarazzo e di difficoltà, soprattutto per i leghisti più critici su un certo tipo di alleanza come lei, come si concilia, è meglio ed è auspicabile che si levi definitivamente di torno, oppure ci può essere una mediazione, una terza via? Allora, io non è che io sono critico nei confronti di Berlusconi, come diciamo persona di Silvio Berlusconi, io un annetto prima circa che cadesse quel governo e quel governo cadde perché va sempre ricordato, cadde non perché la Lega gli tolse la fiducia, ma perché 67 deputati che erano stati eletti nel PDL gliela tolsero loro la fiducia, quando cadde quel governo, io era almeno nove mesi che sostenevo una posizione che era quella di dire che per come si stavano imbarcando le cose, perché c'era il Parlamento paralizzato, secondo me il centrodestra doveva fare una scelta che era quella di dire, visto che in queste condizioni non si va più avanti, si deve cambiare il Premier. Se si cambiava il Premier un anno prima della caduta del governo Berlusconi e si trovava un'altra figura all'interno del centrodestra, probabilmente quel governo sarebbe andato avanti, avrebbe fatto le cose e si sarebbe andata a diversamento, si è rimasti inchiodati in quel scenario e poi alla fine è finita come tutti sappiamo. E allora rispetto a una nuova riproposizione, al di là che con la condanna che c'è stata c'è un problema forse tecnico dal punto di vista della riproposizione, però tutti ci ricordiamo che Berlusconi a un certo punto, alcuni mesi fa, lancia le primarie e dice a Dalfano fai le primarie del centrodestra, addirittura credo fissarono la data, fissarono pure la data credo fosse in novembre, avrebbero dovuto tenersi in novembre. Questo perché? Perché Berlusconi, al quale il sottoscritto può stare simpatico e viceversa o meno, però da un punto di vista è un politico finissimo ed è uno che è capace di fare campagna elettorale, questo glielo riconosco perché è vero. Siccome c'erano le primarie nel centro-sinistra, è chiaro che se le primarie le vinceva Matteo Renzi, Berlusconi contro Matteo Renzi non si candidava. E allora cosa ha detto a Dalfano? Lancia le primarie nel centrodestra e hanno detto facciamo le primarie. Poi quando ha visto che nel centro-sinistra ha vinto Bersani, ha detto torno in campo, io le primarie non servono più. Allora questo per risponderti che se nel centro-sinistra avviene il cambiamento che secondo me avverrà per forza, succederà questo meccanismo, ovvero sia è lui stesso che non si propone in antitesi perché sa che va a perdere. Perché è lo stesso ragionamento che aveva fatto prima di queste ultime elezioni. Adesso c'è da dire che è un po' la sfida della vita per Berlusconi il fatto di potersi comunque scendere in campo, di dare una forte impronta al centrodestra e il fatto che appena dato l'ordine tutti i suoi colonnelli, anche quelli che sembravano più vivaci o più di larghe vedute, siano subito tornati sui propri passi dopo aver annunciato pubblicamente la candidatura alle primarie forse non fa ben sperare sul fatto che ci possa essere con questo centrodestra berlusconiano la possibilità di dialogare, di trovare alternative, di avere una dialettica aperta per trovare davvero un candidato. Come ha fatto meritoriamente oggettivamente penso che tutti lo possano confermare il centro-sinistra quando poi Bersane ha battuto Renzi. C'è sempre un equivoco, poi so che forse su alcune spede ci cendiamo. Il centro-sinistra ha fatto dal punto di vista della comunicazione con le primarie un'operazione straordinaria perché arrivarono quasi al 40% nei sondaggi in quel momento, dopodiché appunto hanno fatto un'operazione non democratica perché le hanno fatte con una regola, addirittura col ballottaggio per essere sicuri che tutti gli elettori di Vendola poi votassero Bersani per far perdere Renzi, quindi le hanno costruite, se uno fa le primarie le deve fare aperte all'americana che chiunque va a votare chiunque, perché ci può essere un elettore di centro-sinistra che gli piace il candidato di centro-destra, uno di centro-destra che gli piace il candidato di centro-sinistra, in democrazia uno vota la persona che gli piace, le primarie vere vanno fatte in questo modo. Però detto questo, rispetto alla situazione attuale, intanto l'errore che secondo me, e ti ribadisco quindi il concetto di prima, l'errore che rischia di fare Enrico Letta, che è l'errore che ha fatto Mario Monti. Mario Monti quando va al governo nel novembre del 2011, Mario Monti va al governo con una situazione devastata del paese, il paese sull'oro del baratro, lo spread altissimo, dopo la cosa sono ancora peggio, perché stiamo peggio da allora, perché sappiamo che non è stato fatto quello che serviva. E Mario Monti aveva una chance enorme in mano e ha sbagliato tutto, perché quando uno va su con quel mandato popolare, perché in quel momento, ce la ricordiamo che era la situazione, praticamente era il salvatore della patria, tu dicevano vai te e fai qualcosa per salvare il paese. Allora Mario Monti cosa doveva fare? Secondo me, doveva andare là dicendo, noi siamo un paese con il debito pubblico troppo alto, con la spesa pubblica troppo alta, per salvare questo paese non deve fare quello che lui ha fatto, quello sia massacrarci di tasse e poi alla fine abbiamo buttato i soldi da finestra, doveva andare là a fare un programma coraggioso e a dire, questo è quello che serve, vi sta bene, lo votate, altrimenti si va a casa. In quel momento passava, perché quello era il momento storico per come era messo il paese, per quella che era l'ondata di emozione popolare, Monti riusciva a cambiare le cose. Invece si è infilato nelle pastoie del sistema partitocratico romano, tratta con questo, tratta con quello e ha fatto la scelta più facile, che è quella di dire, facciamo un po' di altre tasse e tiriamo a campare. E allora l'errore che sta facendo, perché di fatto lo sta facendo Enrico Letta, rispetto alla questione Berlusconi è lo stesso, ovvero sia, lui comunque ha una maggioranza di governo e sa, come lo sappiamo tutti, quello che serve a questo paese, ridurre il debito pubblico, ridurre la spesa pubblica, sburocratizzare, fare una serie di riforme che non ve le elenco, le sappiamo tutte, anche un bambino sa cosa serve fare. Allora l'errore che rischia di fare, anzi che sta facendo Enrico Letta, è questo, che sta lì anche lui a guardare la vicenda Berlusconi, ovvero sia, e Berlusconi viene fatto decadere, non viene fatto decadere, e questi mi sostengono e questi non mi sostengono, in questo modo cosa succede? Che non fa niente, e va avanti e non farà niente, perché resterà appeso, resterà appeso a sta vicenda e l'Italia resta appesa alla vicenda Berlusconi. quello che lui dovrebbe fare come capo di governo è dire, questo è il programma, questo è quello che serve al paese, se vi va bene è questo, se no si va a casa, questo deve farlo chi ha una responsabilità di governo, in maniera seria di fronte agli elettori. Vedo, sta proprio ragionando l'aspirante premier, infatti chiedo se A, a proposito della sua avventura, Io ragiono da sindaco, che è diverso. No, ma anche l'aspirante premier diciamo, è lì poi che c'è anche il desiderio magari di arrivare. A proposito di questo, prima abbiamo affrontato velocemente l'argomento fondazione, anzitutto questa fondazione Tosi, Ah, non è un altro partito, prima domanda maliziosa. Secondo, ma il nome, visto che si diceva che poi a settembre ci sarebbero stati degli elementi in più, è davvero Tosi per l'Italia intera, è qualcosa di diverso. E poi cosa c'è dentro, a livello di ciccia, di idee, di programma, se si può sapere qualcosa. Allora, il programma è ovviamente in maniera più articolata e con delle proposte precise, sostanzialmente per realizzare quello che è stato detto, perché siccome il sottoscritto le cose che vi ha detto, le pensa come credo le pensiamo tutti noi, perché sappiamo quali sono i nostri problemi da vent'anni a questa parte, da quando si è iscritto alla Lega ventitré anni fa, e quindi è chiaro che il programma è il sunto delle idee che ben conosciamo. Il nome non sarà Flavio Dosi perché sarebbe sbagliato. La fondazione non è e non sarà un partito, tanto per capirci. La fondazione nasce per sostenere un'idea, siccome ho detto prima che secondo me bisogna lanciare l'idea delle primarie, perché per riuscire a cambiare le cose, perché la gente possa finalmente tornare a scegliere, perché è stata privata del diritto di scegliere. Voi vi ricordate forse che è stato esattamente alla fine della prima repubblica, nel passaggio alla seconda, vengono tolte le preferenze per il Parlamento. E vengono tolte dicendo che è pericoloso lasciare le preferenze, perché siccome in alcune parti del Paese la criminalità organizzata le gestisce, allora le togliamo. Il che è un po' paradossale, perché se in alcune parti del Paese la criminalità organizzata riesce a gestire le preferenze, devi mandare le forze dell'ordine e la magistratura a risolvere il problema, non è che puoi togliere il diritto a tutti gli italiani di poter scegliere i propri eletti. E fra l'altro, in quelle aree, cosa è cambiato? Niente, perché quel tipo di legami fra la politica e il malaffare è un legame abbastanza consolidato e quindi anziché controllare le preferenze decidono direttamente chi metterà in lista, quindi alla fine non cambia assolutamente nulla. C'è una legge elettorale che non cambia e nessuno mette in discussione dal 93 a questa parte, ed è quella per l'elezione dei sindaci. Perché dal 93 a questa parte è in vigore la presente legge per i sindaci, nessuno la critica, nessuno la mette in discussione perché funziona. perché prevede che la possibilità di governare, chi vince governa e prevede che i cittadini possano scegliersi, il sindaco e i suoi consiglieri comunali. E allora per questo servirebbe comunque un ritorno alle preferenze, che la gente scelga chi li rappresenta perché uno degli effetti, perché la cosa che uno nota subito è quella che non scegli oggi con questa legge elettorale chi ti rappresenterà in Parlamento. Ma la cosa peggiore è un'altra, che è quella che dicevi tu prima, il discorso degli yes men, perché se a Roma ti mandano i cittadini, cioè ti eleggono, ti iscrivono con la preferenza, tu quando vai per i tuoi territori, per le tue vallate, fra la tua gente, per quello che fai là rispondi alla tua gente che ti dice oh io ti ho dato il voto e adesso mi dici cosa stai facendo, ma se invece tu rispondi a chi ti ha messo in lista e non hai un merito preciso rispetto al territorio, alla fine quando ti trovi in Parlamento hai due scelte, o la scelta etica di dire io comunque ragiono con la mia testa e faccio quello che è giusto, oppure una scelta che è quella dell'yes men, che dice siccome qualcuno mi ha messo qua, perché è meo che per tornare qua, ubbidisco al parò. Scusate il dialetto Veneto, ma penso che abbiate capito perfettamente il ragionamento. E allora l'antidoto per evitare questo è quello che la gente possa decidere, si torna alle preferenze, chi è bravo, lavora sul territorio, si dà da fare in mezzo alle gente, è capace, dà delle risposte, si prende le preferenze, e chi non è capace sta a casa. Questo è il modo migliore per far scegliere. E le primarie e le primarie si ispirano allo stesso principio, la gente sceglie, perché è giusto che la gente in democrazia possa scegliere, è scandaloso che i partiti, io sono un dirigente di partito, ed è scandaloso che i partiti decidano non solo i candidati, ma decidano gli eletti. Ed è per questo che è giusto, anche all'interno della Lega, da ora in poi se resta questa brutta legge elettorale, che ci facciamo le primarie, come dicevo prima, così almeno i militanti scegliono. Ti chiedo a proposito della fondazione, Maroni non ha ancora ufficialmente detto qualcosa, insomma dopo il scontato poi che vi state sentiti sull'argomento. Ti chiedo se si può dire qualcosa in più della posizione di Maroni, se c'è in ballo qualche nuovo passaggio, perché immagino che poi il progetto di fondazione sia appena partito, per cui cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane. E a proposito delle primarie, c'è chi ha fatto il nome, e lo sta facendo tuttora anche in questi giorni, di Marina Berlusconi. Anche un attorevole esponente della Lega come Bossi, dice che insomma preferirebbe lei, se dovesse scegliere il candidato premier del centro-destra, anziché Flavio Tosi. Tu credi a Marina Berlusconi? No, allora, come dicevo prima, la fondazione non è un partito, perché non ha lo scopo di essere un partito. la fondazione è uno strumento per lanciare l'idea delle primarie, che poi le vinca, Flavio Tosi o chiunque altro, chi se ne frega, l'importante è farle, cioè è uno strumento per lanciare quella proposta, per dire noi vogliamo che vengano fatte, perché la gente possa scegliere. Se si fanno le primarie, anziché esserci il meccanismo dinastico all'interno della famiglia Berlusconi, in quel caso, dove uno dice, siccome non ci sono io, metto mio figlio, se ci fossero le primarie, se Marina Berlusconi ha il consenso del paese che le dice vai te, avrebbe il merito di essere lei. Quindi, secondo me, se ci fosse questo meccanismo, sarebbe il modo migliore per misurare anche la possibilità per Marina Berlusconi di essere premia, ma non perché qualcuno dice ti metto lì in quanto porti il mio cognome, ma in quanto i cittadini la scegliono e la leggono loro attraverso le primarie. A proposito di primare, prima ho fatto la constatazione di Bossi che ha parlato di Marina Berlusconi, invece, d'altra parte, ci sono alcuni esponenti come Gianfranco Rotondi piuttosto che Giorgio Meloni che invece si sono spesi in lodi nei tuoi confronti. Come è fatto a convincere personaggi che sembrano insomma non essere proprio coincidenti con il programma e le sensibilità della Lega a farli insomma convergere sulla tua figura? Allora, io prima ero di là diciamo nell'altra metà della Bergenfest e c'è un signore che mi ha detto io non la penso politicamente come voi ma comunque la stimo per come amministra la sua città e questo capita a me, capita a tanti sindaci della Lega, capita a nostro governatore Maroni, capita a Ettore Pigrovano, ai tanti sindaci che c'è gente che li ha votati e non è che sia della Lega li ha votati perché li stima e questo non vale per Flavio Tosi vale per i tanti buoni amministratori che abbiamo sul territorio ed è questo il punto fondamentale cioè tu non è che devi pensare a uno schema dove chi è della Lega vota per forza Tosi che è che i movimenti politici la Lega in primis devono esprimere il meglio perché se tu esprimi il meglio e candidi il meglio ti vai a prendere il consenso non solo dei leghisti ma anche degli altri perché per vincere questo è il meccanismo e questo è il modo per governare bene e a proposito di buon governo adesso abbiamo parlato di fondazione più specificatamente nei confronti insomma della Lega e dell'azione politica della Lega cosa ci dobbiamo aspettare anche a livello di azione politica visto che insomma governa le tre regioni del nord in attesa poi che si capiscano gli equilibri nel nuovo centro-destra perché anche lì insomma Maroni ha vinto le elezioni anche parlando di macro regione del nord qualcuno si interga su quando insomma inizieranno a vedersi passi concreti su questo progetto allora noi sappiamo tutti che abbiamo il 21 e il 22 a Venezia l'assemblea federale e lì è il momento in cui i militanti attraverso poi la consultazione che verranno in queste settimane per arrivare poi a quell'assemblea si deciderà qual è la linea da tenere e la linea da tenere io vi dico qual è la mia impressione ma immagino che sia bene o male in qualche modo è ovvio che ci sia anche parlati con il segretario federale è quello di fare in modo di dimostrare alla nostra gente perché glielo dobbiamo che se loro hanno dato fiducia ai nostri sindaci ai nostri presidenti a provincia ai nostri governatori adesso noi dobbiamo ripagare quella fiducia dimostrando che sappiamo combattere per il nostro territorio concretamente nei confronti di uno stato che non vuole cambiare e quindi utilizzare e quindi utilizzare i nostri sindaci i nostri governatori i nostri presidenti di provincia per fare concretamente leva nei confronti di Roma per costringere Roma a cambiare questo è quello che abbiamo fatto la battaglia per avere le ragioni mica per niente è vero a proposito la Lega a Roma adesso sta facendo un'altra battaglia insomma anche con alcune voci di sostegno del PDL mettendo in discussione le scelte di Napolitano parlo di quattro senatori a vita e parlo anche di un suo atteggiamento abbastanza diciamo di copertura nei confronti del premier Letta chiedo di Napolitano perché insomma poi Tosi è sempre stato non è stato mai un critico feroce di Napolitano anzi insomma spesso ci sono stati anche scambi di stima reciproca è cambiato in qualche modo il rapporto tra lei Napolitano tra Napolitano e la Lega e in generale la sua percezione del Presidente della Repubblica allora io cerco sempre di essere coerente e quindi di dire francamente quello che penso e quando io veni eletto sindaco ci fu una polemica abbastanza anche diciamo mediatica per il fatto che non appesi nel mio ufficio la foto di Napolitano ma appesi quella di Sandro Pertini quindi quella di un Presidente della Repubblica che io avevo apprezzato e invece in quel momento Napolitano era stato eletto non da molto sappiamo che era stato eletto per la prima volta non con un voto molto largo a livello di adesione parlamentare ma con una forzatura del centro-sinistra che arrivò alla quarta votazione se non ricordo pur di eleggere Napolitano e quindi secondo me era stata sbagliata la forzatura che è stata fatta perché il Presidente della Repubblica dovrebbe potenzialmente rappresentare tutti e non solo una parte essendo Presidente della Repubblica dopo di che Flavio Tosi ma anche la Lega perché c'era un confronto evidentemente anche fra la Lega di Governo e il Presidente della Repubblica gli avevo riconosciuto l'equilibrio nel riuscire ad esercitare un ruolo non facile perché in più di qualche occasione si era preso le critiche anche dal centro-sinistra Napolitano per alcune sue scelte però proprio perché sono coerente quindi posso dire liberamente quello che penso ho criticato e critico la scelta dei quattro senatori a vita perché 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 il motivo secondo me reale della nomina è quello che è stato detto da chi mi sta intervistando ovvero sia perché siccome al Senato i numeri potrebbero essere ballerini viene andato i quattro in più perché il motivo vero sta tutto lì un film già visto un film già visto però dicevo è più sgradevole oggi perché siccome quei quattro senatori a vita lì solo di emolumento costeranno qualcosa più di un milione perché poi è il costo complessivo più di un milione di euro all'anno poi ci sono tutte le strutture parlamentari gli uffici eccetera per anni perché a vita vuol dire a vita e allora è scandaloso che in un momento come questo che tutti dicono dobbiamo ridurre il numero dei parlamentari il numero dei deputati il numero dei senatori il monumento dei deputati e il monumento dei senatori che creiamo quattro figure che hanno dei meriti scientifici artistici assolutamente indiscutibili ma perché gli devi regalare il posto di senatore cosa c'entra? Io spendo investo due milioni all'anno per l'integrazione ovvero sia si spendono dei soldi per far sì che la gente straniera che è qua si possa integrare io ci metto i soldi sapete in sei anni quanti soldi ho avuto dal ministero dell'immigrazione dell'integrazione da quando sono sindaco? Zero Allora per questo dico al ministero della propaganda perché se non ci metti una lira se non ci metti una lira è inutile che vieni a predicare cosa devi fare per l'integrazione perché l'integrazione la facciamo noi con i soldi vostri perché quei soldi da Roma arriva niente e quindi questa è la prima considerazione l'altra è che le questioni che pone il ministro Chieng e posso dire quello che penso perché appunto non la offendo ma dico il mio pensiero lei pone la questione del reato di clandestinità e dello Iussoli allora per quanto riguarda il reato di clandestinità il ministro Chieng ignora nel senso che non lo sa evidentemente che il ministro Maroni inserì il reato di clandestinità perché per quelle che sono le normative europee combinate con il diritto italiano perché noi abbiamo un altro dei drammi di questo paese è che abbiamo una costituzione ingessata invariabile che è uno dei grandi limiti una digressione la Svizzera ogni volta che vuole fa un referendum senza quorum nel senso che il referendum è giusto che non ci sia il quorum se uno vuole andare a votare bene se non vuole andare a votare non può impedire a chi va a votare di decidere invece in questo paese in questo modo salto nel referendum dovresti fare il referendum senza quorum chi va a votare vuole chi non vuole pace e amen vuol dire che ha scelto di non scegliere dicevo in Svizzera a colpi di referendum cambiano la costituzione cambiano cambiano la costituzione fanno le scelte fondamentali per il paese in Italia per cambiare la costituzione che è quella che ha inchiodato questo paese sotto tanti punti di vista perché se lo ricordate tutte le volte vi è fatta una legge e uno ricorre alla costituzionale la fa cadere compresa le leggi sull'immigrazione per cambiare la costituzione devi fare doppio passaggio camera senato due volte sì da una parte dall'altra devono passare almeno sei mesi quindi ci vuole almeno un anno è un anno è un tempo interminabile per l'economia e per la società e se per caso fra camera e senato cambiano una virgola devi rifare passaggio e allora dicevo rispetto a cos'era la domanda mi sono perso se è vero che è il peggior ministro di questo governo e allora rispetto a questa situazione il reato di clandestinità viene inserito perché è l'unico modo oggi a costituzione vigente questa costituzione vecchia e ingessata è l'unico modo a costituzione vigente per poter espellere perché tu per questioni amministrative non puoi espellere tu puoi espellere se c'è un reato e allora il reato qual è? quello di migrazione clandestina quindi è stato inserito per poter dare la possibilità di espellere e quindi questa è la prima questione tant'è che adesso mi viene da ridere a leggere le dichiarazioni del mitico mi pare c'è Schultz sempre qui è un grande del mitico Schultz che adesso che adesso a distanza di molti anni dove l'Europa ha scaricato e scarica tuttora sull'Italia l'immigrazione clandestina ha dichiarato il mitico Schultz doverosa una legge europea sul tema dei migranti alleluia cioè adesso dopo che ce li siamo sorbiti noi per anni tutti perché noi siamo diventati la porta all'immigrazione clandestina dopo che l'Unione Europea condanna Malta che Malta dice prendite lì da Italia e noi generosamente ce li andiamo a prendere dopo che il resto dei paesi europei altrettanto generosamente ci chiudono le frontiere a 20 miglia perché alla faccia del trattato di Schengen quando c'era l'ondata di migranti che andava in Francia la Francia ha detto ti saluto Schengen chiudo le frontiere e ve li prendete indietro voi a proposito di Europa e allora in un contesto come questo in un contesto come questo noi non possiamo permetterci immigrazione clandestina oggi non possiamo neanche permetterci immigrazione perché oggi per quella che è la crisi economica e sociale che non c'è lavoro ma non è un fatto razzista io vivo in una città con il 14% di stranieri e stanno tornando a casa loro perché i posti di lavoro non ci sono più per nessuno e allora un governo serio un governo serio un governo serio analizza il fenomeno e lo governa e quindi se vede che non c'è possibilità di accogliere altre persone perché se non trovano né casa né lavoro vuol dire che dobbiamo mantenerli come costo sociale e il sistema sociale sta saltando perché guardate la questione esodati e casse integrati si fa fatica a far fronte ai nostri ai diritti dei nostri e quindi per questo dico contesto quello che dice il ministro Chiang perché sostiene delle tesi che sono fuori dal mondo ivi compresa quella dello ius soli perché la questione degli ius soli io da sindaco è sei anni che ora mi sono tenuto per scelta la delega alla sicurezza la delega all'immigrazione la delega all'integrazione tratto io con le comunità straniere e se ci sono dei problemi ci si parla tranquillamente si vede anche di affrontarli con estrema concretezza e facendo quello che è giusto non ce n'è stato uno che sia uno che sia venuto a dirmi a me interessa avere la cittadinanza prima o votare prima non gli interessa allora interessa provare a integrarsi mandare i figli a scuola cercarsi un lavoro mettere su famiglia e avere una casa la questione della cittadinanza anticipata è uno dei dogmi della sinistra che non c'entra nulla con gli interessi degli stranieri e quindi per questo dico il ministro Chiang è il ministro della propaganda perché dovrebbe secondo me andare a parlare con i problemi degli stranieri andare a parlare con gli stranieri e cercare magari di capire quali sono i loro problemi perché lei anziché occuparsi di questo sta facendo solo propaganda ideologica per carità può andar bene nel dibattito politico ma che tu paghi un ministro o un ministero per fare propaganda ecco questo forse è uno spreco di denaro pubblico sempre per rimanere nel campo del centro-sinistra anche Maroni nei mesi scorsi aveva detto Tosi è il nostro Renzi è il Renzi del centro-destra intendendolo come figura insomma capace di ammodernare di mandare a casa un po' delle vecchie figure che da anni popolano la scena politica eccetera eccetera e chiedo se A. si riconosce in questa definizione e B. in che cosa le sue idee le sue insensibilità sono simili a quelle di Renzi e in che cosa insomma vi divide in modo inconciliabile ma allora ci accomuna il fatto di essere sindaci oggi Verona fra l'altro è la più grande città non amministrata del centro-sinistra tutte le città maggiori sono amministrate dal centro-sinistra la città più grande non amministrata dal centro-sinistra oggi è Verona dicevo quindi ci accomuna il fatto di essere sindaci forse una differenza non vuole essere una critica ma forse una differenza è quella che io sono sindaco da sei anni abbondanti e faccio il sindaco cioè io vengo alla Bergenfest vado in giro un po' dappertutto per la Padania per l'Italia faccio attività politica ma faccio il sindaco io sono nella mia città vado in ufficio tutti i giorni e risolvo i problemi della mia gente e questa è una cosa che io devo ai miei cittadini perché mi hanno eletto sindaco e forse e forse tant'è che Matteo che era un ragazzo intelligente oggi c'è un po' tornato dicendo adesso mi ricandido forse adesso lui sta ritornando a preoccuparsi di amministrare Firenze c'è stato un periodo un po' lungo dove Matteo forse del suo ruolo di sindaco forse si è occupato molto di altre questioni e un po' meno del ruolo sindaco io penso che se tu chiedi ai tuoi cittadini di fare il sindaco hai il dovere prima di tutto perché prendi lo stipendio da loro di dare delle spot ai due cittadini peraltro forse tra qualche settimana ci sarà un confronto pubblico a una festa della Lega in Emilia Romagna con Renzi eventualmente lo temi come eventuale rivale in una sfida diciamo travolti nuovi qualora dovesse essere tose adesso andiamo un po' parliamo un po' di fantapolitica tra te e lui oppure insomma ti senti anche in grado di competere perché molti le hai detto anche tu prima dicevano se si candida Renzi per il centro-sinistra anche Berlusconi si tirerebbe indietro perché insomma non ci sarebbe partita questo considerato che l'immagine di Renzi forse sia anche un po' appannata nelle ultime settimane negli ultimi mesi secondo me allora il problema non è chi vince le primarie e ti senti in grado di competere con quell'altro vinci tu vinci lui vince lui secondo me il punto è farle cioè il punto è che poi le vince chi è più bravo a prendere il consenso dei cittadini questo è il punto fondamentale non è ti senti in grado di competere sarete tu e lui probabilmente anzi io sono convinto che facilmente le perdo vero mica penso di partecipare alle primarie e di poterle vincere io probabilmente le perdo però secondo me almeno do la possibilità alla gente di scegliere il suo candidato e questa è la battaglia che va fatta al di là che la vince quella perdi ultimissima domanda tocco un tema particolarmente diciamo leghista visto che poi prima abbiamo parlato anche del referendum sull'autonomia del Veneto c'è anche qualcosa che si sta muovendo in Lombardia al di là dei risultati elettorali della Lega mai come in questa fase storica socio-economica stanno emergendo le difficoltà di tenere in piedi aree che hanno delle disomogeneità economiche non solo economiche forti insomma e profonde è davvero possibile anche immaginando insomma un contesto europeo che questo paese vada avanti così magari anche con una riforma federale che possa in un certo senso snellirlo o modernarlo oppure come sostengono alcuni leghisti è un po' nelle cose il fatto che ci sia l'indipendenza insomma del nord come traguardo come orizzonte e questo indipendentemente dagli sforzi che si possono mettere insomma per cercare di salvare il salvabile allora sempre appunto restando secondo me su quelli che sono degli scenari realisticamente possibili allora le cose dovranno comunque cambiare perché avanti così non ci si va perché sappiamo tutti benissimo che ormai siamo veramente ridotti male se andiamo avanti qualche mese così poi la fine salta tutto allora le possibilità di cambiare sono due allora oggi a costituzione vigente la costituzione di cui parlavamo prima un percorso per la divisione in qualsiasi forma del paese oggi a costituzione vigente non è possibile perché la costituzione recita che l'Italia è una indivisibile quindi non c'è un percorso democraticamente possibile per arrivare alla divisione del paese allora le possibilità di cambiare sono due una è quella il percorso federalista che è quello che abbiamo sempre portato avanti che vuol dire fare in modo io da sindaco per dare un esempio appunto sul concreto quando mi hanno chiesto del servista Ax del Limo eccetera allora io comune di Verona ho un bilancio di 300 milioni di euro fino a qua la città di Verona versa a Roma in termini di IRS e di IRPEF quindi le tasse di Stato tutte le altre ma io vi dico solo questi due qua che sono una parte noi versiamo un miliardo e qualcosa a Roma ci tornavano indietro a Verona fino a qualche anno fa 110 milioni che sono il 10% non chissà che cosa quest'anno e guardate che vale per Alzano in proporzione uguale dappertutto qua dappertutto qua dappertutto però dicevo quest'anno mi tornano 22 milioni su un miliardo che diamo a Roma e su un bilancio di 300 milioni cioè vuol dire che ormai la gran parte del bilancio dei nostri comuni è fatto tutto da tasse pagate aggiuntive sul territorio cioè vuol dire che voi pagate tutte le tasse allo Stato in uno Stato normale e quelle tasse dovrebbero andare una parte allo Stato una parte alla Regione una parte al Comune per fare tutta una serie di cose in realtà queste vanno tutte allo Stato al Comune resta niente e voi ripagate tutte altre tasse per avere i servizi dal Comune e allora quando mi hanno chiesto cosa penso della Service Tax ho detto che la facciano in maniera tale io sono disposto a spiegarlo ai cittadini di Verona questo perché almeno finalmente si mette un po' di equità che ci tolgano tutto ma a tutti cioè a nessun Comune più niente perché io sui miei 300 milioni di bilancio faccio a meno di quei 22 però a tutti i comuni d'Italia lo Stato non dà più nulla perché rispetto perché rispetto ai 22 milioni che danno a me ci sono comuni in Italia che con le stesse dimensioni prendono 3 4 5 volte e allora piuttosto che una situazione iniquità del genere almeno e questo lo Stato risparmierà qualcosa ma almeno costringe delle amministrazioni che non sono virtuose che hanno assistenzialismo che hanno spreco che hanno clientele a tirarsi sulle maniche a amministrare bene costringono anche chi amministra male ad amministrare bene e quindi dicevo o c'è questo tipo di percorso federalista cioè costringere chi spreca a non sprecare e ci sono degli esempi ne avete parlato anche in queste serate li sappiamo benissimo tutti e questo è l'unico modo attraverso il quale forse forse si cambia perché dico forse perché bisogna vedere se cambia in tempo perché se non cambia in tempo salta tutto l'altro modo quando tu mi dicevi lo scenario di divisione contrasti eccetera quello non lo programmi politicamente cioè se le cose vanno avanti così e resta un governo come questo che non cambia le cose e pensa di andare avanti tartassando la gente quando il sistema salta e arriva il caos perché pensate alla Grecia anziché all'Argentina quello che succede succede ecco questi sono gli scenari e quella non è una questione che lo decide Flavio Tosi quello è uno scenario che oggi in Italia è possibile tant'è che non se ne parla perché i media nazionali non ne parlano per non spaventare la gente perché la situazione greca che è drammatica devastata economicamente la Grecia si è impegnata con l'Europa entro fine anno di licenziare 15.000 dipendenti dello Stato ha chiuso la tv pubblica e l'ha riaperto lasciandone a casa mille e l'anno prossimo deve lasciarne a casa altri 40.000 e la Grecia fa un quinto di abitanti dell'Italia per capire le proporzioni allora per questo dico o l'Italia cambia ma non perché noi si decide un percorso di divisione o cambia democraticamente facendo in modo che chi oggi spreca i nostri soldi le nostre tasse finisca di sprecare o l'Italia cambia perché salta tutto questi sono i due scenari possibili e lo chiedo in qualità di sindaco leghista una delle proposte che sta facendo Salvini proprio su questi problemi suggerisce o paventa il fatto che i sindaci della Lega possano fare delle azioni di disobbedienza e una delle azioni di disobbedienza di cui si parla è il fatto di uscire dal patto di stabilità perché non solo c'è il problema dei trasferimenti ma c'è anche il problema dei molti soldi che i comuni in particolar modo i comuni del nord hanno in cassa che poi di fatto non possono spendere personalmente mi fa un po' specie pensare immaginare che soltanto Fassino che è un sindaco insomma di centro-sinistra a Torino uno o due anni fa aveva deciso di uscire dal patto di stabilità perché non ci stava più dentro con le spese ed è stato per questo multato quello che dice Salvini e chiedo anche a lei ma è possibile immaginare che anziché essere un unico sindaco per di più di centro-sinistra ci possa essere un'azione di disobbedienza di questo tipo da parte di più sindaci e in particolar modo dei sindaci della Lega che sono anche numericamente insomma consistenti allora per quanto riguarda il caso di Torino e dopo rispondo anche sull'altra questione ma è per dare un dato perché appunto mi piace sempre parlare di numeri per capirci in realtà più che di una scelta la situazione di Torino divenne una necessità perché questo è il giornale giornale nel senso il giornale del 21 luglio quindi di un mese fa dove c'è la classifica delle città con in proporzione la maggior cifre messe a bilancio come residui attivi cosa sono i residui attivi? sono quelle cifre che tu iscrivi a bilancio perché le dovresti introitare ma non le hai ancora in cassa cioè tu dici hai delle multe hai una serie di diritti che devi riscuotere le metti a bilancio perché sai che le andrai a prendere però ancora non le hai il problema è che i residui attivi devono essere veri cioè tu sai che le andrai a prendere o al limite puoi averne magari una piccola parte che forse non li prenderai ma comunque deve essere una cifra compatibile col bilancio perché altrimenti c'è il rischio e in alcune realtà italiane è così c'è il rischio che di fatto tu hai il comune che è in dissesto e quindi per non dichiarare il dissesto tu dichiari un residuo attivo altissimo cioè dici io prenderò questi soldi non li prenderai mai è sostanzialmente un falso bilancio però in questo modo formalmente hai il bilancio in piedi e le città d'Italia con i residui attivi ripeto il giornale del 21 luglio la classifica è comune di Roma 5 miliardi 5 miliardi dichiarati di residui attivi il secondo comune d'Italia per regime residui attivi è Napoli con 2 miliardi e mezzo il terzo comune d'Italia per residui attivi è Torino con 1 miliardo e 100 milioni dopo gli altri sono Reggio Catania Palermo Messina Salerno Lecce Bari ho solo letto il giornale non è che ho detto una valutazione personale allora ci ho detto ci ho detto quello che dice Matteo Salvini è proprio è quello il punto fondamentale cioè se un comune sfora il patto di stabilità allora se un comune va in dissesto arriva a Roma e paga perché è quello che succede abitualmente ci sono alcune regioni dove lo fanno in maniera sistematica perché tanto dopo qualcuno arriva lì e paga il debito se un comune virtuoso sfora il patto di stabilità arriva lo stato centrale e ti bastona se tre regioni virtuose e 500 comuni sforano il patto di stabilità a quel punto si cambia il patto di stabilità perché a quel punto diventa un po' difficile per Roma fare e per dirvi in concreto e per dirvi in concreto sempre e questo lo faccio io ma lo fanno tanti altri colleghi sindaci siccome oggi per come non funzionano le cose in Italia il bilancio di previsione di quest'anno verrà il bilancio di previsione dei comuni di quest'anno verrà portato il termine per approvarlo a novembre ovvero sia i comuni avranno tempo per approvare il bilancio preventivo 2013 entro novembre 2013 cioè praticamente quando dovreste approvare il bilancio preventivo 2014 e perché? perché siccome continuano a cambiare le regole anche lì non si capisce più un cazzo di quello che fanno a Roma anche perché fanno i provvedimenti tu li leggi sul giornale e non c'è il testo vero? cioè nessuno sa cosa c'è scritto si trovano i consigli ministri trattano dicono le cose e non c'è nemmeno il testo scritto queste sono delle cose veramente da Repubblica delle banane e allora siccome siamo siamo così questo è l'Italia oggi la motività della burocrazia è la Repubblica delle banane allora con una situazione come questa i comuni come fanno ad amministrare una possibilità e non fare niente cioè tu dici c'è il patto di stabilità non ho il bilancio approvato ma non per colpa mia sindaco amministrazione che non sono capace di approvarlo perché non posso non posso perché siccome non so la questione imu com'è non posso fare il bilancio e quindi non faccio nulla non spendo nulla e quella è una possibilità che uno ha norma di legge così si tutela si para il culo e non fa nulla l'altra possibilità che ripeto non la fa sono frangiotosi la fanno tanti altri colleghi è quella che il sindaco e la giunta si assuma la responsabilità loro tu vai in giunta settimana dopo settimana con delibere con impegno di spesa dove il tuo responsabile della ragioneria ti dice guarda che tu questa delibera non la potresti approvare perché il patto di stabilità non la prevede è perché tu non hai approvato il bilancio preventivo ma siccome io il fatto di non aver approvato il bilancio preventivo non è colpa mia ma dello stato centrale il patto di stabilità è un vincolo stupido che mi mette nello fatto centrale e io devo amministrare la mia città perché rispondo ai miei cittadini noi settimane ripeto non è frangiotosi sono tantissimi altri colleghi che settimane dopo settimane e mesi che andiamo in giunta con delibere dove c'è il parere negativo della ragioneria che ti dice non potresti approvarla e noi la proviamo perché quei soldi li abbiamo e li spendiamo e quindi questi sono i presupposti sono i presupposti per arrivare alla conseguenza di prima perché se alla fine ci costringono se alla fine ci costringono perché ci stanno costringendo sforeremo il patto di stabilità in massa perché noi non possiamo non amministrare le nostre città per colpa dello stato centrale quindi entro la fine dell'anno potremo vedere delle iniziative concrete di questo tipo il patto di stabilità tiri la riga il 31 dicembre ultima cosa ringraziando il pubblico ovviamente e tu si per la partecipazione vorrei chiudere dando la possibilità di mandare un messaggio affettuoso di saluto sia a Calderoli che a Bossi visto che spesso si è parlato di polemiche nelle scorse settimane negli ultimi mesi che voi che voi nel senso non te personalmente io l'ho presa alla larga io dico che i masbidia nazionali si godono a scrivere delle polemiche interne a chi sta in questa sala e soprattutto a chi sta fuori da questa sala interessa che noi risolviamo i problemi delle nostre comunità e se le bega interne non gliene frega nulla